Chiedono risorse per contratti e assunzioni, ma soprattutto il riconoscimento delle proprie professionalità. Oggi, 25 marzo, mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica e delle funzioni locali, con Presidio nazionale a Roma, davanti alla sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e in tutto il Paese, davanti alle prefetture. A promuoverlo sono FP, CGL, CISLFP e WILFPL, che in Regione si sono dati appuntamento davanti Palazzo di Governo a Campobasso, motivando così le ragioni della protesta. Noi vogliamo un contratto che non soltanto rinnovi la parte economica, ma che rinnovi e riqualifichi e rilanci il servizio pubblico e il settore pubblico, per dare valore ai dipendenti pubblici, ma soprattutto per dare servizi di qualità ai dipendenti pubblici. Parliamo di sanità e parliamo di enti locali, enti locali che si dovranno occupare delle risorse da spendere del PNRR, senza personale qualificato e senza personale da assumere, non sarà possibile utilizzare nei tempi stretti che sono previsti per il PNRR le risorse che sono a disposizione, quindi non possiamo perdere queste opportunità di valorizzazione dei territori. E dunque le organizzazioni sindacali compatte chiedono risposte subito professionali ed economiche per le lavoratrici e lavoratori che in questi ultimi due anni, in condizioni difficilissime, hanno garantito servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini. Le risorse che il Governo ha stanziato per il rinnovo del contratto sono, a nostro giudizio, esigue. Esigue perché? Perché sono riferite al costo della vita di dieci anni fa, invece noi, come noi vediamo specialmente con la crisi energetica degli ultimi giorni, il costo della vita è pesantemente aumentato negli ultimi tempi. Quindi chiediamo un adeguamento contrattuale che sia parametrato al costo della vita. Inoltre chiediamo un piano straordinario di assunzioni perché le nostre pubbliche amministrazioni in tutti questi anni, fra la legge Fornero, la quota 100 e tanti altri istituti che hanno permesso al personale di andare in pensione, noi abbiamo, come dire, gli organici delle nostre pubbliche amministrazioni completamente depavorate di personale. Organici ridotti all'osso nella sanità come negli enti, una situazione che mette a rischio gli stessi servizi al cittadino. Oggi ci sono enti piccolissimi in Molise, noi sappiamo che dei 132 comuni la maggior parte sono o con un'unica persona che lavora, o addirittura ci sono una decina di comuni che sono privi di personale, dove esiste solo l'amministrazione locale, cioè l'organo politico. Ma non è così che funziona. La resilienza, il piano di resilienza sarà un fallimento totale se non si corre ai ripari. Quindi chiediamo maggiori risorse umane, chiediamo maggiore riconoscimento della professionalità, riconoscimento dei ruoli che passa anche attraverso l'aspetto economico, ma non solo quello. L'appuntamento di oggi, puntualizzano le organizzazioni sindacali regionali, FP, CGL, CISLFP e Will FPL, rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione generale che si concluderà solo con il recepimento dei principali punti delle piattaforme contrattuali presentate al Governo ormai più di due anni fa.